Ha lasciato un segno profondo nella storia della sua terra, della sua Tramonti, paese dall'aria pura, dai pizzaioli sopraffini, dall'eno gastronomia prelibata, ma anche paese da sempre caratterizzato dall'emigrazione verso aree geografiche capaci di offrire maggiori occasioni occupazionali. Nel ricordo di Aurelio Giordano, un momento di riflessione sull'emigrazione a Tramonti, nella frazione Campinola, in quella chiesa di San Giovanni che ha rappresentato il fulcro della vita, troppo breve, dell'attività e della passione di Aurelio. Mio marito, però ha fatto un lavoro così straordinario che merita di portarlo, cioè questo lavoro bisogna portarlo avanti perché è una cosa importante di lavoro di 20 anni, 25 anni di lavoro, dove ha fatto tante di quelle iniziative culturali, di pubblicazioni, di giornali, che sarà materia per i giovani. Lui più di tutti ha saputo cogliere questa particolarità, infatti attraverso questo lavoro, questa sua capacità di cogliere questo momento particolare che ha vissuto Tramonti, si è impegnato anche e soprattutto per raccontare la storia dei pizzaioli di Tramonti. Quindi è veramente una persona che merita di essere ricordata, anche se purtroppo in giovane età è venuto meno, perché ha visto molto più in là di tanti altri. Ha avuto la capacità di capire che bisognava far venire fuori quella che è tutta la storia e la tradizione di Tramonti attraverso la sua molteplicità di caratteristiche, attività lavorative, ma anche proprio alla propensione del cittadino di Tramonti. La fertilità della terra, le culture dei popoli, sono una splendida eredità per l'umanità di tutti i tempi. L'emigrare dei popoli da un luogo all'altro della terra è un diritto di ogni uomo. L'emigrare dei popoli L'emigrare dei popoli